Ciao a tutti, benvenuti in questo video. In questo video vi farò vedere come realizzare il famosissimo no make up, make up, quel famosissimo trucco non trucco, cioè come apparire, andare fuori di casa a posto senza sembrare truccate. Questa è una proposta semplice per chi è alle prime armi, vuole comunque correggere qualche difetto, sembrare naturalmente più carine senza ricercare un look troppo costruito. Io vi lascio il video e spero che vi piaccia, se vi piace mettete mi piace. E niente, insomma, anzi mi sottolineo anche una cosa, la prima parte del video ho steso il primer e l'ho fissata con una cipria, però la macchinetta si era spinta e quindi non sono riuscita a evitare quella parte. Però insomma, niente di difficile, non è che vi perdete molto, ecco. Io vi lascio il video, vi mando un saluto, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!